buongiorno buongiorno amici ben ritrovati al nostro venerdì di chiusura di questa settimana dedicata a degni di nota con il nostro aspettando di di nota allora anche oggi grandi ricordi grandi ricordi perché andiamo nella stagione 18 19 parliamo di un'altra finalista di questa edizione lei è giulia vicini una ragazza che ha avuto i suoi problemi perché non riusciva a sbloccarsi però il suo grande talento poi è venuto fuori e anche la nostra giuria del savio leonora mazzotti emanuela cortesi si sono accorti di lei stiamo parlando di silvi vicini ce l'andiamo ad ascoltare poi torriamo subito dopo la strada è la stessa ma sembra più vuota il vento è più freddo si è solo da me tu non mi accompagni cammino da sola nessuno mi guarda nessuno mi aspetta la vita è la stessa soltanto più alta e solo la luce costreggono gli occhi se solo potessi prestarmi i nuovi occhi occhi un giorno ci rincontreremo ancora chissà dove saremo stati grandi attraversando i tempi oppure ci rincontreremo rincontreremo mano nella mano la testa tra le nuvole la terra sotto i piedi mi mancano non lo guardi lo sguardo stesso più attento e deciso la voglia di averti la lascio a sfogare se solo potessi prestarmi di noi i tuoi occhi lo sai vedevano meglio di me un giorno ci rincontreremo ancora chissà dove saremo stati grandi attraversando gli anni oppure ci rincontreremo mano nella mano la testa tra le nuvole la terra sotto i piedi mi mancano lo guardi ridere, correre, amare ma amare davvero senza condizione sbagliare e pentirsi puoi fare la pace sapendo che niente ci avrebbe cambiato perché niente era in grado oppure ci rincontreremo oppure ci rincontreremo mano nella mano la testa tra le nuvole la terra sotto i piedi mi mancano lo guardi e lei era Giulia Vicini facciamo uno scatto di un'edizione questa è l'edizione 19-20 vogliamo parlare di Thomas Puskas che ha fatto grandi cose anche negli ultimi periodi ha pubblicato delle sue canzoni gli facciamo tanti complimenti mandiamo un abbraccio a tutta la famiglia Puskas adesso ce lo andiamo ad ascoltare in questa sua grande timidezza perché ci ha messo anche lui un pochettino a sbloccarsi sto parlando di Thomas Puskas a tra poco 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 Puskas a tra poco